fiamma fiamma salì le strette scale polverose che portavano in soffitta tenendo sollevata la vestaglia s'avvicinò ad una minuscola finestra in fondo al corridoio la ripulì e sbirciò fuori con aria di complicità francesco ed eva a distanza dalla casa si tiravano la palla eva sorrideva a volte francesco la inseguiva lei gli dava una spinta e lui faceva finta di perdere l'equilibrio eva batteva le mani fiamma si compiacque dei suoi figli io ero orgoglioso di essere il suo amante anche se fiamma non mi amava non mi amava eravamo andati in soffitta per prendere una valigia che sigillava la mia partenza da quella casa mi feci una domanda come giudico la porzione di vita che ho trascorso in questa casa adesso che sto per abbandonarla perché fiamma non mi ha mai amato sempre sorridendo fiamma mi consegnò una valigia impolverata io la presi e la ringraziai come se mi avesse detto un grazioso arrivederci niente arrivederci ma addio si addio eppure sapevo che la mia vita in quella casa non era stata una vita inutile anzi sentivo che ero di molto cresciuto perché avevo amato fiamma senza essere amato da lei l'avevo amata senza aspettarmi ritorni di amore fiammando ad un vecchio baule e l'aprì per cercare qualcosa conteneva attrezzi arrugginiti e sul fondo un pacco piatto avvolto in carta ingiallita di giornale portò il pacco vicino alla finestra e cercò di leggere il giornale che ora le si disfaceva fra le mani strappò il giornale era una foto di fiamma da giovane mi disse tieni e per te pensai che forse fiamma dal nostro rapporto aveva imparato meno di me grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti